ciao bambini lo sapete che ci sarà da aspettarvi alla scuola dei grandi lo volete sapere ci sarà guizzino il pesciolino che avete fatto insieme alle maestre del nido e insieme a lui incontrerete nuovi amici farete tante nuove avventure e tante nuove scoperte in questo lungo viaggio attraverso guizzino vi aspettiamo un grosso abbraccio ciao bambini a presto e ovviamente un abbraccio anche ai vostri genitori vi aspettiamo tutti alla scuola dell'infanzia buongiorno bambini come va come state io sono fiorenzo il capo delle maestre delle scuole dell'infanzia di centaldo il capo delle maestre che vi stanno aspettando e che vi accoglieranno con tanti sorrisi e tanto affetto voi siete pronti ad iniziare questa nuova avventura nelle nostre scuole questo birichino di virus ci ha tenuti lontano tanto tempo e non ci ha dato la possibilità di conoscerci prima non ci ha dato la possibilità di farvi conoscere le scuole gli insegnanti però state tranquilli perché le vostre insegnanti vi aspettano hanno già in programma tantissime attività per farvi divertire per farvi imparare per farvi stare contenti sereni per farvi giocare con tanto con tanto affetto fate un grandissimo saluto anche ai vostri genitori perché stiamo aspettiamo anche loro nelle nostre scuole per adesso vi saluto e vi faccio un grandissimo grandissimo abbraccio ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto